ne approfitto vi ringrazio perché mi seguite da tanto tempo in memore quasi no dai è da quattro anni che esiste il canale ed è una cosa figa caldo il caldo siamo con i 30 gradi di massime c'è il giorno che arriva a 31 32 c'è il giorno che arriva a 28 29 e minime 20 gradi va bene c'è un certo tasso di umidità giorni in cui è stato al massimo e giorni ora da un paio di giorni un po me le ore di luce possiamo avere una media di 35 gradi va bene e poi la sera abbiamo detto 20 gradi e sono temperature in sé che piacciono al pomodoro come pianta come crescita sia come assorbimento radicale sia come crescita aerea quindi della parte vegetativa e non piacciono tantissimo alle fioriture non piacciono tantissimo agli impollinatori quindi i bombi in serra con queste temperature lavorano poco cioè lavorano al mattino nel paio d'ore e poi un'oretta prima del tramonto anche meno perché non solo per la temperatura troppo alto anche perché i tassi di umidità in serra si moltiplicano come sappiamo anche se sono completamente aperti già c'è la temperatura che è al limite ok per le fioriture con questa esposizione anche alla luce solare che c'è nelle serre l'umidità ecco forse è proprio quella goccia in più che ci dà questi problemi ecco di allegaggione quindi con il caldo umido le fioriture tendenzialmente si impoveriscono di polline ok tendono già ad essere meno ricche di pollini anche se ho visto che nel ciliegino soprattutto sono ricche di polline ugualmente vuol dire che stiamo lavorando bene tutto stiamo nutriendo stiamo coccolando bene le le piantine insomma mi sono detto qual è il problema principale che in alcuni periodi soprattutto quando le piante sono state più sotto stress quindi nei periodi molto freddi tra virgolette qui da noi e nei periodi molto caldi sicuramente sono stati due i fattori che ho individuato che ho utilizzato meno magnesio attivato che come sapete un solfato di magnesio arricchito di microelementi perché perché costa c'è una mosca che ora spero di riuscire a mangiarla così la smette perché ho voluto risparmiare il solfato di magnesio perché come sapete abbiamo le acque magnesiache molto ricche di magnesio quindi mi sono detto va bene alla fine non può avere carenze di magnesio in nessun modo anche se non ne do però l'ho utilizzato lo stesso come dicevo prima nella fase prima ecco nella terza fase della coltivazione del pomodoro quindi poco prima della dell'inizio della maturazione dei frutti e i 100 euro li risparmi in una cosa 200 non altri 500 non altro a fine campagna si vanno a sommare e sono migliaia di euro che si risparmiano però dobbiamo andare a vedere fino a quanto vale la pena risparmiare se poi perdiamo altro perché perché ho visto che appunto come dicevo nei periodi dove la pianta è stata non dico più sotto stress ma molto sotto stress ha dato un po meno ecco le fioriture un po più povere le i palchi floreali più piccoli e quindi questo si traduce in minore produzione se poi c'è un periodo più dolce a livello climatico magari la pianta si riprende se si è comportata bene quando era sotto stress poi quando arriva il clima più mite ricomincia a fruttificare a produrre tanto l'anno scorso ho risparmiato in tantissime cose ora non le voglio riepilogare ma in tante cose quindi quest'anno magari sto ecco ora magari le andiamo a vedere in un altro video le cose in cui non voglio risparmiare o comunque voglio risparmiare meno e le cose in cui non voglio risparmiare affatto le cose che sto facendo in più come i microrganismi e faccio così perché ci sono ancora dei sacchi qui e li dobbiamo mettere nei due settori che ancora dobbiamo fare quindi però questa cosa la volevo sottolineare con un video dedicato questa cosa del del solfato di magnesio perché non è il magnesio in sé come dicevo prima perché noi nelle acque anche quando vado a fare i trattamenti fogliari utilizzando le stesse acque di irrigazione do magnesio perché è già disciolto nell'acqua anzi è quello che assorbe la pianta meglio però la mancanza di solfati guidare a spendere qualcosa in più qualche centinaio di euro il guadagno sarà sicuramente di più non solo in termini economici a il guadagno nel senso in il risultato di crescita della pianta nutrizione della pianta rafforzamento della pianta quindi migliore fioritura e migliore produzione migliore raccolto e poi se il mercato è buono migliore aumento dei guadagni ecco però tra l'aumento dei guadagni dobbiamo sempre calcolare il mercato perché se poi vai a raccolare nel periodo in cui tu vai a raccolta il mercato non è favorevole non c'è non c'è risultato a livello economico l'agricoltura così voi che siete qui lo sapete magari chi guarda dall'esterno l'agricoltura e il mondo dell'agricoltura agroalimentare e soprattutto gli agricoltori che hanno i trattori che costano quanto un appartamento hanno i mocchinoni e non sanno queste cose e non sanno che rischi che ci sono con la situazione climatica sempre più instabile che c'è non lo possono capire ecco io la cosa che dico è fatelo anche voi ecco fate anche voi quando c'è qualcuno che dice voi in agricoltura siete ricchi guarda quanti pomodori che hai qua sono cose tipiche o guarda quanti meloni o quante angurie sei ricco fai un sacco di soldi quanta uva l'uva 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 lì è scandaloso lasciamolo stare ora in questo momento ditelo anche voi fai tu l'agricoltore fatti apri un'azienda agricola produci tu e diventa ricco tu ciao alla prossima fate i bravi picciotti